Questione SAD per la gestione dei rifiuti, sia nel Vallo di Diano che nel Golfo di Policastro fervono le attività da parte dei comuni per la costituzione dei subambiti distrettuali per la gestione del servizio dei rifiuti a livello territoriale che possa garantire l'autonomia dei comprensori nella definizione delle tariffe per i cittadini oltre che una gestione omogenea delle attività di raccolta e smaltimento degli stessi rifiuti. Dopo gli incontri avvenuti nelle scorse settimane in provincia di Salerno dove l'ente d'ambito presieduto da Giovanni Coscia insieme al referente Bruno Di Nesta hanno dato il via libera alla costituzione dei diversi subambiti territoriali per una gestione semplificata del servizio sul territorio provinciale ora gli enti dovranno adoperarsi prima con la sottoscrizione della Convenzione passaggio questo che dovrà essere completato entro metà marzo ed immediatamente dopo individuare l'ente capofila. Per il SAD Busento, Lambro e Mingardo che dovrebbe comprendere 21 comuni afferenti alla comunità montana Busento, Lambro e Mingardo in attesa che arrivino le delibere dei consigli comunali si registrano già scontri in riferimento alla scelta dell'ente capofila e tra l'ente montano e il comune di Santa Marina. Motivi del contendere sarebbero da ricercare nella scelta dell'ente si è chiamato a coordinare il SAD con diversi comuni che avrebbero individuato nella comunità montana Busento l'ente idoneo a ricoprire il ruolo di ente capofila. Una scelta che però sembra non trovare d'accordo tutti come i comuni di Santa Marina, Sapri e San Giovanni Appiro che manifestano scetticismo sull'ipotesi. Inoltre dal presidente della comunità montana Vincenzo Speranza arriva una forte critica rivolta al comune di Santa Marina per il sito individuato per la realizzazione dell'impianto di compostaggio che a parere di Speranza non è idoneo in quanto si trova in un'area ridosso del fiume Busento. Pensare alla realizzazione di un impianto di compostaggio in un posto di mare, dichiara Speranza, è una follia perché distrugge la vocazione turistica di un territorio. Turismo e industria sono incompatibili. In fermento anche il Vallo di Diano dove i sindaci a breve si dovrebbero riunire per la definizione degli ultimi passaggi per la costituzione del SAD ecodiano per poi procedere all'approvazione delle delibere di consiglio sulle convenzioni delibere che dovranno arrivare tutte entro il 15 marzo. Una volta costituito ufficialmente il SAD si dovrà scegliere l'ente capofila che non sarà la comunità montana Vallo di Diano in quanto dall'EDA è stato chiarito e sottolineato che tale ente non potrà essere individuato quale ente capofila del SAD.